Saranno consegnati il prossimo 17 agosto i lavori di messa in sicurezza dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sarà la direzione provinciale dell'azienda sanitaria provinciale a farlo e riguarderà un'ala del nosocomi agrigentino dove prima si trovavano gli ambulatori e che, secondo la procura che aveva fatto eseguire alcuni carotaggi per la verifica della percentuale di cemento armato utilizzato per le strutture portanti, risulta la più pericolosa e necessita, pertanto, di un immediato intervento. È stata la determinazione del general manager dell'azienda agrigentina, Sabatole Lucio Ficarra, a dare un impulso decisivo. Ficarra ha lavorato allacremente e con dedizione dal giorno in cui ha preso possesso della sua carica raggiungendo già importanti obiettivi per il miglioramento della sanità agrigentina sia dal punto di vista dei servizi sia dal punto di vista economico-finanziario. La somma, che sarà destinata ai lavori che permetteranno di sanare la vicenda del cemento depotenziato col quale sarebbe stato costruito l'ala in questione, sarà di 600 mila euro e il cantiere avrà una donata massima di otto mesi. Il termine massimo previsto per il completamento dei lavori è di 250 giorni. Intanto l'azienda, tramite il direttore amministrativo del distretto ospedaliero AG1 che comprende anche gli ospedali di Agrigento, di Cate e Canicatì e che serve una vasta parte di territorio, fa sapere che entro agosto saranno assegnati i lavori per l'ambiamento di alcuni reparti, tra questi la neurologia e la chirurgia vascolare. Anche il pronto soccorso del San Giovanni Dio sarà presto interessato da lavori di ristrutturazione. Insomma, grazie ai vertici dell'ASP, la sanità agrigentina sta cambiando il proprio volto e lo fa sempre in meglio. Gli investimenti saranno ingenti, si parla di circa 5 milioni di euro e investiranno anche servizi importantissimi come la PET-TAC e dell'acceleratore lineare che serviranno per la radioterapia. Le ultime settimane poi si sono eseguite le opere per l'analizzazione di un gabbiotto per le bombe di ossigeno che prima avevano una sistemazione non propria adeguata. Davvero un gran lavoro quello del direttore Ficarra che si è preoccupato personalmente della questione. Ho notato questa mancanza e ho fatto in modo che si provvedesse al più presto alla realizzazione di una struttura dove le bombole potessero essere sistemate e non subire danni. Ficarra, tra le tante attività mirate al miglioramento dei servizi, ha anche annunciato una novità riguardante il servizio mensa. Mai più i pasti che arrivano da fuori. Basta catering. Il servizio dovrà essere fatto dentro le mura dell'ospedale, nelle cucile interne dell'osocomio che stiamo provvedendo a migliorare. È chiaro che affideremo il servizio ad una società esterna, ma i pasti del servizio mensa dovranno essere preparati all'interno. Insomma, un tourbillon di iniziative è quella del dottor Salvatore Lucio Ficarra tutte volte a fare dell'ospedale di aggregamento un fiore all'occhiello della sanità siciliana e che possano portare il livello di qualità della struttura e dei servizi al massimo dei livelli.